Un nuovo packaging in colore ecosostenibile che farà la differenza. Non sfuggirà ai consumatori, soprattutto per il contenuto con un nuovo prodotto ancora più fresco e legato al territorio salernitano. La centrale del latte di Salerno appartenente al gruppo New Lat Food SPA rafforza il suo impegno green e verso la qualità. Grazie alla collaborazione con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni, da domani sarà sul mercato con il nuovo latte alta qualità, il latte del parco. Un nuovo prodotto che vanta la provenienza esclusiva della materia prima dalle stalle dell'area del Parco del Cilento e le aree contigue e con massimo riguardo per il benessere animale. Confezionato entro le 12 ore dalla mungitura è il primo latte ad essere approvato dal Parco Nazionale del Cilento e a poter vantare il suo logo sulla confezione. Da domani i salernitani, ma noi riteniamo che questo latte possa essere esportato fuori anche dalla provincia di Salerno perché è un latte che rappresenta la massima valorizzazione del territorio e della qualità proveniente dagli allevamenti di questa regione. E quindi da domani i consumatori potranno essere sicuramente i primi a assaggiare questo prodotto che dal punto di vista organolettico è assolutamente differente dagli altri e io li invito tutti a gustarlo. A 12 ore dalla mungitura il latte è direttamente in tavola? Beh sì, questa è una grande sfida che noi tutti i giorni stiamo approntando e credo che questa sia la massima garanzia di freschezza. La rintracciabilità garantita anche per il consumatore che potrà vedere personalmente i dati di tutto quello che viene prodotto da queste stalle sul sito internet nostro. È una piattaforma che potrà dare la possibilità di vedere quanto latte viene prodotto, le caratteristiche microbiologiche e anche chimico-fisiche del prodotto. Questo sicuramente è un ulteriore elemento di trasparenza verso il consumatore di oggi che cerca e vuole questa trasparenza quando acquista un prodotto. Una filiera sempre più corta, diciamo veramente pochissimi chilometri, un prodotto sempre più di alta qualità e questo è il core business della centrale del latte di Salerno. Noi ricordiamo sempre che la centrale del latte di Salerno è l'unica che produce latte fresco che proviene esclusivamente da questo territorio. Questa è una selezione ancora più ristretta che proviene da una zona ad altissimo valore ambientale e naturalistico che ha anche delle tradizioni nel mondo dell'agricoltura. È stato il direttore generale dell'azienda di Forni, Simone Aiuti, alla presenza del presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, a presentare stamani il lancio del nuovo prodotto che sarà a scaffale da domani mattina che vede in partnership non solo il Parco Nazionale del Cilento ma anche Lega Ambiente Campania. Sì, è un'alleanza storica quella tra la centrale del latte e Lega Ambiente che si valorizza attraverso un prodotto che rispecchia le filiere virtuose del territorio, il benessere animale e le produzioni di latte del Parco del Cilento. Tenere insieme quindi il rispetto dell'ambiente, la sostenibilità sociale e anche lanciare un messaggio importante in questo momento fa diventare più forte l'alleanza storica. Un'occasione per ribadire l'importanza del Parco Nazionale del Cilento e di quanti agricoltori mantengono vivo l'aspetto ambientale di questo territorio. Assolutamente, quindi le filiere green, quelli che tengono insieme il rispetto dell'ambiente, dei lavoratori, l'etica, sono sicuramente le occupazioni del futuro. Si parla dei green jobs, noi abbiamo tutto l'opportunità di valorizzare grazie al nostro territorio e dobbiamo farlo anche in prospettiva dei fondi europei che arriveranno per l'uscita dalla crisi.